L'ex direttore del TG4 Emilio Fede per anni fedele amico dell'ex premier stava facendo una diretta sui social quando si è diffusa la notizia della dipartita di Berlusconi. Emilio Fede che appare provato dalla sua età e forse dai troppi ritocchi estetici fatti in precedenza inizialmente non crede alla notizia chiedendo ai suoi cronisti di informarsi bene e di fornirgli le fonti e quando capisce che la notizia è reale si lascia prendere dalla commozione. L'ex direttore del TG4 si lascia andare ai ricordi mostrando anche alcune foto plastificate delle ultime apparizioni dell'ex premier in pubblico. Allora direttore ma ha letto sul Corriere della Sera perché che c'è il presidente non c'è più vabbè ragazzi me lo dite ogni cinque minuti che è morto io adesso solo con Alberto che me l'ha annunciato. Leggete sul Corriere della Sera si direttore purtroppo. Vabbè ma per adesso io vado, è morto per lo scorri, vado con quello che fa un cronista in questo senso, caro Emilio, le notizie sono il giungolo così con molta incertezza e la prima notizia mi è arrivata attraverso mio collaboratore Alberto che riesce a collegarsi sempre con quella zona come con altre zone e quindi mi ha lui comunicato questa notizia che essendo un clamoro dal punto di vista morale, affettivo, eccetera, richiede riflessione una certezza, non stiamo parlando di pecorelle sbarrite, parliamo di un uomo che ha coinvolto il mondo dal punto di vista politico, economico, in tutti i sensi di affetto, eccetera. ero fatto con una modesta colazione insieme ad Alberto che io chiamo il buono perché è buono nel senso che è sempre disponibile e si occupa dell'informazione per tentare di capire. Ecco, sono conosciuto qui, restate lì, non importa quanto. Pronto? Pronto? Ecco. Mi sento direttore? Sì, sento bene. Sì, direttore, comunque non sono la notizia ufficiale. Ufficiale, ufficiale. Ah sì, eh? È ufficiale, direttore. Oh, madonna. È ufficiale, direttore. È ufficiale. Cinque minuti fa è successo tutto. Ecco, allora, scusate, io sono collegato con questo amico e collaboratore da Napoli. Allora, sentiamo intanto, vedete le immagini, queste. Sono una big news nata, non si vuole a no. Come? Dica. Ecco, parla, dimmi. Sì, sul Corriere, direttore, il Corriere della Sera l'ho ammesso. Adesso l'ho ammesso. E che dice l'altro? Eh, dice ultima ora è morto Silvio Berlusconi, direttore, aveva 86 anni. Porca la miseria. E quindi l'ospedale è assediato? Eh, non lo so, direttore, sono notizie che stanno arrivando flash. Eh, che viene la notizia. Tutti gli ultimi secondi, quindi non vi so dire. E quindi cosa, oltre a quello che stai comunicando, che cosa, cosa sai? Sì, ho letto solo che purtroppo è successo che non c'era, 86 anni, tutto qui, perché purtroppo porta solo un piccolo trafiletto perché la notizia è ultima, cioè di poco fa. E appunto... Penso che anche come vi ha letto Alberto, la stessa cosa che vi ho detto io, direttore, cioè... Sì, 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 ma a spizzichi, a spizzichi, è troppo delicata, umanamente, politicamente, in tutti i sensi. Sì, sì, direttore. Mi pare, se dovesse essere così, scopare un uomo straordinario, dal punto di vista umano, io dico umano perché l'ho conosciuto da 40 anni, abbiamo vissuto tanti momenti insieme, professionali, professionali, professionali. Lui mi ha assunto e poi c'è l'affetto, sai, hai saltato qui, con il collegamento, ma comunque va qua anche, con il collegamento, lui mi ha assunto tanti anni fa, con affetto immenso e tale è stato ricambiato da me. Poi sulla sua fine, la malattia, c'è stato un rincorrere di bagattelle, di non certezze, si è sempre pensato che ciascuno tentava di fare il colpaccio che non si fa sulla vita di una persona nell'affermare che Berlusconi ci aveva lasciato. Io non lo so, non mi va di dire con la certezza, perché mi rimane quel pizzicurino dentro che mi fa pensare c'è il miracolo, lui lo merita il miracolo, dai, forse è il miracolo umano, il miracolo umano straordinario e tutti quelli che hanno pregato e pregheranno per lui, tutto quello che lui ha fatto, ha fatto, ha fatto, ha fatto, ha fatto da quando ha fondato Forza Italia. Per rendere il paese più vicino a quello che Berlusconi stesso aveva sognato, per il quale aveva, o lavora, davolo al presente, porta bene. Io sono sconvolto, con lui sono state state le battute che fanno gli idioti, ma sì, ma lui non ti vuole vedere, cioè io e lui, adesso lo posso dire, non sono il solo, eravamo come fratelli, come fratelli. Abbiamo trovato una delle ultime foto con Berlusconi, no, c'è quella, viene sua, ecco qua, Alberto, questa è proprio una delle ultime foto, c'è Berlusconi ancora lì all'ospedale, certo, bravo, all'ospedale. Guardate questa foto e l'immagine potrebbe essere l'ultima, io spero di no, ma non si può, non si può, non si può, ha sofferto tanto, ha amato tanto, ha sofferto tanto. Ciao Presidente, ma spero di rivederci, comunque sono vicino, l'età mi avvicina a te, come mi è stata vicina a te per anni, per anni, per anni. E vi mostro, Alberto è stato bravissimo, abbiamo recuperato, un po' sfilacciata, ma bella, eccola qua. La foto a parcetto con Berlusconi, con grande affetto, vorrei una volta per tutte definire la mia amicizia, la mia amicizia, il mio rapporto con lui è straordinario, nessuno può dire, a parte certamente gli stretti familiari, quanto sia cementato quello che io ho provato con lui, è lui per me, ero sempre tutti i giorni con lui, tutte le sere con lui, non c'era quel senso di vacuo, di festeggiamento, di festini, come gli imbecilli hanno voluto sostenere. No, in questo momento, guardate, c'è un Berlusconi ad un Emilio, potrei quasi dire che ci assomigliamo, grande affetto, grande, grande, grande affetto. E poi se il giornalismo è vero, lampante, questa volta è stato Alberto, che è un gigante fisicamente vero, e coccolava qui stamattina le notizie, le coccolava, cioè le cercava, le cercava, quasi un sentore, per poi confermare, semi confermare, che Berlusconi forse se n'è andato. Eccolo qua, anche sempre opera di questo ragazzo, che chiamo Alberto. E' impossibile pensare che mentre c'è questo momento di dolore, e di tentare di raggranellare i ricordi, non è che sono una favola, sto parlando di una cosa, dalla quale io solo, soltanto, sono stato testimone. Allora, direttore, voi vi vorrevate molto bene? Sì, è vero. Emilio Fede spende parole di ammirazione e di devozione nei confronti di Berlusconi, ma tra le foto ne emerge una che lo ritrae con il Cavaliere, foto che però è strappata. Chissà che lo strappo non sia dovuto proprio alle vicende giudiziarie che hanno legato i due, riguardo il caso Rubi. Emilio Fede è stato infatti all'epoca condannato a quattro anni, e licenziato in tronco dal ruolo che aveva su Rete4. Ad oggi però ricorda l'ex premier con apprezzamento, e lo ringrazia ancora per quello che ha fatto per lui.